Ecco, girando tra le varie cose qui nel centro commerciale, qualcosa di interessante ho trovato. Qui vendono dei tablet, mi hanno dato anche un bellissimo cataloghino. C'è un tablet tridimensionale per i giochi e per i video 3D. Il tablet tridimensionale, il prezzo è 799.000 rupie, quindi parliamo circa 50 euro, pochissimo, a 8 gigabyte, per cui ecco qualcosa, dopo vabbè vendono telefoni, telefoni prezzo proprio stracciato, si parla meno di 20 euro per un telefonino con la tastiera QWERTY. Abbiamo anche telefonini, sono telefonini senza marca, anonimi, a differenza di Kuala Lumpur dove vendono telefonini tutti di marca, anche marcati Samsung e in realtà sono contraffatti, non sono Samsung e hanno delle caratteristiche molto peggio di questi qui e costano molto di più.